Ciao, qualche giorno fa è stato il mio compleanno e volevo mostrarvi alcuni dei meravigliosi regali che mi hanno fatto poiché tutti mi hanno regalato dei giocattoli pupazzi, giocattoli, pupazzi il problema, che spero non riguardi solo me è che io ho 21 anni 21 e a 21 anni se non ricevo almeno un pupazzo o un giocattolo mi tossico il compleanno, cioè sono tristissima che senso ha festeggiare il compleanno se non hai neanche un piccolissimo pupazzino e niente, quindi quest'anno sono tutti quanti impazziti appresso a me e sapendo della mia forte ossessione per Animal Crossing mi hanno preso la collezione dei Lego più altri giocattoli probabilmente a 50 anni vorrò ancora altri pupazzi e niente, questa infatti sono io che non so aprire neanche la bottiglia di champagne ma so montare i Lego e non riesco neanche a soffrire le candeline qui è la quarta volta che per sbaglio non avevo soffiato la candelina alla quinta volta ci sono riuscita e niente, va bene, buon compleanno a me qui ero molto spaventata dai miei parenti e niente, ciao vi auguro tanti pupazzetti nella vostra vita